Per il terzo anno consecutivo, grazie a dei volontari e a tante persone generose, è stata fatta nella giornata di sabato la colletta alimentare. Io come sindaco vorrei ringraziare sia i volontari che hanno permesso questa colletta e le tante persone che hanno donato del cibo per le persone che ne hanno sicuramente più bisogno. Questo cibo da tre anni lo teniamo all'interno del comune di Berceto, lo diffondiamo insieme alla parrocchia perché purtroppo ci sono delle persone che hanno difficoltà anche nel nostro territorio. Quest'anno la raccolta è stata di 432,73 kg e più o meno siamo nella media degli anni scorsi, quindi dobbiamo ringraziare tutta la gente di Berceto che con generosità ha donato questi alimenti per chi ne ha bisogno. Io voglio ringraziare Fabio Cavazzini perché è sempre molto sensibile su queste problematiche e coordina gli altri volontari che ringrazio ancora una volta. Grazie. Grazie. Grazie.